Siamo in compagnia di Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione Univerde. Presidente, partiamo dalla petizione che ha lanciato lei quest'estate su Change. L'Italia non spenga il sole per dire no alle tasse di autoconsumo e per salvare le rinnovabili. La petizione è stata vinta nel giro di pochissimo tempo. Una risposta così immediata e forte da parte di un Paese in cui comunque l'apparato giuridico, l'apparato politico è ancora molto legato al fossile. Cosa bisogna aspettarsi per il futuro? Io innanzitutto ho dovuto fare questa petizione perché il cosiddetto decreto competitività aveva fatto delle scelte scandalose. Lo spalma incentivi da un lato, quindi che interveniva su un impegno preso allo Stato nei confronti di tutti gli operatori, di dare per vent'anni un incentivo, un impegno quindi stracciato con grandi problemi anche a livello internazionale perché molti Paesi hanno giustamente protestato e soprattutto si rischia di non avere più investitori dall'estero perché quando tu arrivi in uno Stato che ti dice io se fai questo investimento per vent'anni ti do questo, poi alla fine cambio idea e se domani noi chiediamo investimenti per salvare l'occupazione in alcuni settori rischiamo di non avere un riscontro. La petizione che ho fatto era per limitare il danno, perché in quello stesso decreto avevano messo anche una tassa sull'autoconsumo, cioè io mi faccio l'energia dal sole, me la consumo da solo, dovrei addirittura pagarci una tassa. Cioè io nel 2007 ho fatto il conto energia, ho dato un incentivo a chi aiutava l'ambiente, faceva autoproduzione di energia, adesso addirittura questo governo fossile aveva messo una tassa anche sull'autoconsumo, dentro un decreto. L'idea che ho avuto è di mobilitare molte persone, di scrivere anche un libro, di avere il sostegno anche di Rifkin, di Rubbia, di una serie di personaggi, delle associazioni dei consumatori e alla fine di parlare con molti parlamentari siamo riusciti a far cambiare grazie al consenso dei cittadini, all'azione che ho fatto sui parlamentari abbiamo almeno cambiato questa cosa, quindi per oltre 490 mila impianti, quindi tutti gli impianti fino a 20 kilowatt è stata cancellata questa vergognosa tassa sull'autoconsumo. Ovviamente lo considero sicuramente una vittoria perché siamo riusciti a imporre almeno un minimo di decenza, ovviamente non è un cambio di strategia perché questo governo resta legato al petrolio, al carbone, al gas, addirittura con l'altro decreto lo sblocca Italia, addirittura ha dato regali alle aziende dei fossili e ha sbloccato trivellazioni petrolifere a mare e a terra in un paese, l'Italia, che al contrario dovrebbe investire sul sole, sull'eolico sostenibile, quindi il micro e il mini eolico, sulla geotermia sostenibile, abbiamo la possibilità di essere un paese autonomo con le energie rinnovabili, tutt'al più usare il gas, abbiamo molte centrali a gas, quindi quando c'è necessità usare le centrali a gas che sono quelle comunque meno impattanti rispetto al carbone e al gasolio, bisogna chiudere le centrali a gasolio e a carbone, questa è una strategia energetica, questo governo non ce l'ha perché è, come dire, da una parte ignorante, dall'altra è influenzato dalle lobby dei combustibili fossili. Cos'altro possono fare i cittadini per ovviare e cercare di ottenere una strategia energetica come lei ci ha illustrato? Innanzitutto i cittadini, come dire, devono votare bene, non so come perché questo è un paese dove purtroppo la classe politica ha creato delle leggi elettorali che impediscono anche di selezionare poi il personale politico. Sicuramente una delle cose che hanno in mani i cittadini è quella, l'altra è la mobilitazione a tutti i livelli, nel senso nei comuni scegliere le amministrazioni locali che si impegnino sulle energie rinnovabili, alle prossime elezioni regionali guardare non più i partiti ma le persone, i candidati e i presidenti che si impegnino su questo, quindi uno dei poteri cittadini è ancora la sovranità popolare. L'altra è tutta questa forma nuova di governance che abbiamo dimostrato nella petizione e anche le scelte individuali, cioè oggi nonostante questi attacchi molti cittadini fanno impianti energia solare, decidono di autoprodursi l'energia, tutto questo è un modo per stare meglio perché chiaramente si può anche risparmiare. E poi io sto dicendo a tutti di sostenere le azioni delle università, le piccole imprese, le associazioni che lavorano nella direzione anche dell'accumulo dell'energia, cioè noi dobbiamo avere la possibilità, grazie alla tecnologia che è migliorata, anche di accumulare energia rinnovabile quando ce n'è in eccesso ovviamente, magari noi non stiamo a casa, non usiamo molto l'energia però c'è il sole e noi abbiamo la necessità di poter accumulare quell'energia, consumarcelo quando ci serve e questo sistema potrà consentire di essere indipendente energeticamente. Quello che una persona come Jeremy Rifkin ha detto e ha scritto in vari libri e che io ho cercato di diffondere quando ho preso i propri Rifkin come mio consigliere al Ministero dell'Ambiente. Ma il divario rispetto all'Europa, agli altri paesi dell'Europa, noi che siamo il paese del sole, quanto impiegheremmo diciamo a raggiungere un'indipendenza energetica come altri paesi che invece sfruttano di più le rinnovabili? No, in realtà non dobbiamo da questo punto di vista sottovalutarci, noi eravamo nel 2007 quando io ho fatto il conto energia uno dei fanalini di coda, ma in pochi anni grazie anche a quella legge noi oggi siamo il secondo paese al mondo per produzione di energia per esempio di energia solare, siamo uno dei grandi paesi produttori di energia dalle rinnovabili, abbiamo avuto l'idroelettrico e abbiamo ancora l'idroelettrico, abbiamo l'eolico, purtroppo in certi casi non sostenibile, io spero sempre di più invece nell'eolico sostenibile, comunque le fonti energetiche con cui produciamo energia dalle rinnovabili pongono l'Italia in uno dei paesi più avanzati. Paesi che hanno raggiunto la vera indipendenza con le rinnovabili non ce ne sono sostanzialmente, ma il modello che noi dobbiamo seguire è il e per esempio lo sforzo che fa la Germania nel sostenere anche l'accumulo di energia, ben sapendo che però noi oggi da un punto di vista energetico siamo più performanti diciamo della Germania che ha ancora le centrali nucleari, le sta chiudendo, le vorrà chiudere, ma la Germania va a carbone e nucleare, noi andiamo sostanzialmente con rinnovabili, molto con gas che è meno impattante, ma continuiamo ad avere vecchie centrali a olio combustibile a carbone e io credo che l'Italia potrebbe fare a meno con un piano coraggioso e serio del carbone e del petrolio, se soltanto invece di prendere ordini dall'Enel o da altre industrie del fossile si dicesse a Enel e altre aziende, guardate dovete riconvertire, Enel per esempio ha anche Enel Green Power che fa le energie rinnovabili, però è chiaro che se tu non hai una politica capace di dare l'indicazione, tu hai le imprese che decidono loro la politica industriale e condizionano il governo, mentre tu dovresti dire non è che io ti voglio chiudere, semplicemente tu devi farmi un piano per cui le centrali a olio combustibile e a carbone devono essere progressivamente dismesse, il paese andrà a rinnovabili e userà per quello che serve il gas, perché le centrali a gas diversamente da quelle a petrolio e a carbone possono essere accese e spente quanto ce n'è bisogno, quindi in un breve lasso di tempo, mentre quelle a carbone e a olio combustibile vengono tenute stabilmente accese perché una volta che le accendi non è che puoi accenderle e spegnere e ti danno energia, devono essere alimentate e quindi ti producono inquinamento, tra l'altro producono più inquinamento di quelle a gas, quindi arrivare a un futuro 100% rinnovabile, nella fase di transizione dire tra i fossili io scelgo quello meno impattante che è il gas, di cui abbiamo tra l'altro grandissima già disponibilità, abbiamo vari gasdotti, abbiamo i rigassificatori, non abbiamo bisogno per esempio di fare un altro rigassificatore, un altro gasdotto come vogliono fare in Puglia, perché abbiamo già il doppio del gas che arriva in Italia di quello che serve alle esigenze nazionali e già in parte siamo diventati un hub, cioè noi prendiamo gas per poi riesportarlo in altri posti europei, dobbiamo ragionare che non possiamo danneggiare un paese che è turistico, che è agricolo, che è di grande qualità con un eccesso e un sovraccarico di infrastrutture energetiche.